Vi ringrazio il dottore Silvestre, la dottoressa Vincenti per l'invito che mi hanno rivolto, vi ringrazio per il lavoro e greggio che stanno svolgendo, a loro ho detto questa mattina che ad esempio, qui è solo un pochino dal campo, la locanda Martorelli è nostra intenzione parne il Museo della Gran Tur, quindi ci stiamo attivando affinché quello che abbiamo scritto nel nostro programma amministrativo possa essere realtà, quindi possa avere una vera concretezza. Grazie.